Musica Gentili degli spettatori, ben trovati da Andrea Di Pre, questo è l'Andrea Di Pre per la musica e oggi abbiamo uno dei protagonisti più assoluti, un giovanissimo interprete musicale che è riuscito in pochissimo tempo a scalare le vete di un successo inarrestabile e questo dalla sua appartenenza a Napoli è dovuto proprio alla sua capacità innata di destare simpatia e di entrare nel numero, nell'essenza di Napoli e della parata napoletana. Con me c'è il piccolo Lucio, ciao piccolo Lucio. Ciao, tutto bene. Straordinario, allora piccolo Lucio oggi ci regalerai alcune emozioni ma partiremo subito da quella che è la chiave del tuo genio, la favola della tua fantasia, ovvero quel prodotto, la Nutella, giusto? Lucio che ti ha portato a creare un capolavoro che rimarrà sottratto alla schiavitù del tempo. Allora così live, senza niente, piccolo Lucio ti chiedo di cantarci. A me mi piace Nutella, giornata e capanna e merenditi in quantità i cornetti indollati, maioni secche e ciappa, non mi la vita fa manca mamma che ha visito anche il nuovo ballito, a pranzo mi può fare mangiare ma che ne faccio sti cosi, voglio di mozzarella, una sfilatina che ha mortadella una pizza che ha Coca-Cola, come te può manca e zeppa le panzarotte e bule setta a me mi piace Nutella, panina e porchetta voglio tutto, capangetta non voglio brodino, non mi riuscire a pastino sti cosi fanno male a me è perché oggi era anche stupendo, continuiamo però ancora perché questo è da sentire tutto proprio a mattina fette biscottate con te mamma mi fa mangiare buona mela scolli da cartelli di sei dice dopo purta mi fa una scolla ogni mattina sono campanello quattro brioche e una ciambello a me mi piace Nutella, gelato, capanna e merendini in quantità i cornetto indollati, i maioni e i ketchup non mi la vita fa manca mamma che fesi tacchino, il nuovo ballito a pranzo mi vuoi fare mangiare ma che ne faccio sti cosi, voglio di mozzarella le sfilatine, la mostatella una pizza che coca col come te può manca e zippa le panza rotte e pulisse in realtà a me mi piace Nutella ma in una parchetta voglio pesù non voglio brodino non mi riuscire a pastino sti cosi fanno male a me ma è fantastico un applauso tu sei entrato nel cuore di Napoli guardate come dice questo cuscino io nel cuore di Napoli e voi nel mio auguri così come Maradona lo era per il Napoli Calcio possiamo dire giusto tu sei la bandiera di questa città sublime sei straordinario sei unico e ti merito un successo infinito solo per quello che hai fatto finora però piccolo Lucio ti voglio chiedere tu hai avuto questa grande ondata di gente che ti chiama e tutto quanto e a scuola cosa ti dicono? ma a scuola non mi dicono proprio niente perché sono felici e io ringrazio loro che mi fanno i complimenti e tanti auguri mi fanno io li ringrazio anche perché tu canti per un piacere personale non per altri giusto? però piccolo Lucio mi dicevano anche chi lavora con te chi ti segue che in questi ultimi tempi poi hai cambiato un po' adesso mi puoi proporre brevemente l'altra quella sul bombolone come brevemente solo il ritornello un bombolone a coca cola ti mangio ogni minuto a tutta l'ora pura mattina prima due cornette ti metti in una sacca di un zanetto quello che vuoi a marì ho trovato il mio zafì si viene a zageppino ti fai risotto e poi ti fai cattà ti piace un bombolone a coca cola questo bombolone a te ti fai un pazzo che meraviglia ecco però ultimamente ti stai dedicando ad altre canzoni giusto? qual è l'ultima l'ultima che ecco del genere rap mi sembra adesso vero? si perché piano piano io cresco e ora tengo 13 anni e cambio un po' del genere delle canzoni e ho fatto una nuova canzone che si intira Per Amore vuoi proporcela? si Per amore faccio il rap il mio cuore ha detto stop non lo vuoi sapere ha deciso per me per amore faccio il rap per una stampa nuova scop per la bionda pop sembra una moda e l'olta peppa pazza la musica questa è una canzone nuova che si è andata anche su youtube si può trovare noi stiamo facendo il nuovo video penso che è andata alla gana questa canzone che è bellissima Vedi piccolo Lucio tu stai scrivendo una delle pagine più sontuose dell'Andrea Di Pre per la musica oggi e sono particolarmente felice di vedere quanto tu sia riuscito a sottoporre all'eggita dell'ideale una passione insaziabile per la bellezza per le cose giuste per i tanti aspetti che ti contraddistinguono ultima canzone ancora che vuoi proporci qual è un altro di Tottor Mentoni che comunque ti hanno che ti propongono e che ti chiedono in genere oltre alla Nutella ecco sempre un'altra nuova canzone sento la caramella ecco sentiamola va bene mi sono mi sono innamorato che là là come doce caramelle però non si fa mangiare straordinario il pubblico ha una domanda per il piccolo Lucio diciamo che le prelibatezze cosa più bella è la pizza la pizza margherita guarda per me tu sei l'orgoglio dei tuoi genitori in primis ma anche di questa città piccolo Lucio ancora complimenti ti auguro il massimo bravo bravo bravissimo per quello che hai fatto fino ad oggi il piccolo Lucio Andrea Di Pre da Napoli vi salutano e vi ovunque siate nel mondo penso l'ultima cosa ai tantissimi napoletani che sono disseminati su questa terra la commozione nel vedere uno di loro che riesce a toccare il cuore con questa immediatezza con questa suavità straordinario il piccolo Lucio Andrea Di Pre vi ringrazia a presto